Buon pomeriggio, la domenica della 125esima Fiera Cavalli. Siamo quasi agli sgoccioli ma siamo riusciti ad avere con noi Marco Barcella della Equitazione Iberica Italia, un cavallo antico per una società nuova. Sì, nuova perché è nata con un bel progetto di persone che conosco da tempo e tutti insieme hanno spinto a crescere questa nuova associazione per diffondere le discipline iberiche, al quale io sono molto legato ma tutte le persone che conoscono vorrebbero esaltarle in qualche modo e noi con la nostra organizzazione quest'anno l'abbiamo fatto partendo da zero, aprendola a gennaio e in un anno abbiamo preferito per spingere questo progetto associarsi ad una federazione che è la Fite Trecante che ci appoggia e abbiamo costruito un campionato italiano di Doma Vaquera, abbiamo aperto una disciplina dell'addestramento classico iberico nuovo segmento e abbiamo appreso in gestione, travagliato cavalli e per finire il padiglione iberico 9 qua a Fiera Cavalli nella nostra gestione quindi direi che in un anno da 0 a 100 ce l'abbiamo fatta. Il prossimo appuntamento dove si potranno vedere i cavalli che gravitano nel vostro ambito? Diciamo che nel prossimo appuntamento sarà sempre costruito insieme attorno alla federazione in tutta Italia, gestiremo il campionato italiano, faremo anche con il campionato italiano di Doma Vaquera, faremo anche un campionato nazionale di addestramento classico iberico dove l'anno scorso l'abbiamo provato nella regione ma quest'anno nel 2024 l'anno nuovo lo diffonderemo in tutta Italia. Mi piace questa cosa di diffondere perché credo che la cultura, la storia, il patrimonio di competenze e di conoscenze che ci sono in un tipo di monta così particolare come quella spagnola che è nata per vivere assieme ai cavalli spagnoli abbia veramente tanto bisogno di essere diffusa ma diffusa bene e soprattutto che ci sia una formazione riguardo alle caratteristiche di questo tipo di monta ma anche alle caratteristiche dei cavalli. Prevedete di fare magari della formazione, dell'informazione, di raccontare qualcosa dei vostri cavalli, del vostro tipo di monta? Sì, tant'è che proprio quest'anno qua a Fiera Cavalli parte grazie alle conoscenze e diciamo l'entusiasmo parte l'alta scuola che è il nostro progetto però può partire grazie alle persone dove abbiamo preso degli accordi. Faremo formazione perché siamo collegati con le persone in Spagna, la federazione spagnola e i cavalieri spagnoli che vengono a fare dei cliniche qua ad insegnare la disciplina, la doma bachera che è particolare ma anche l'alta scuola quindi ci sarà questa formazione costante tra noi e la Spagna. Perfetto, cosa possiamo fare insieme per far stare bene i cavalli? Ma innanzitutto rispettarli e nel rispetto come tutti noi io ho un cavallo, sono un cavaliere e viene trattato come un figlio perché fondamentalmente vuoi bene, devi voler bene proprio come un cagnolino che ho e quindi trattarli bene e soprattutto insegnare ad andare a cavallo bene alle persone perché se vai a cavallo correttamente vuol dire che rispetti il tuo cavallo. Bisogna che impariamo, c'è sempre da imparare. Grazie, grazie mille Presidente e a presto con altre cose che riguardano questo cavallo meraviglioso. Grazie.